Hai tra i 16 e i 35 anni, non segui alcun corso di studio, non hai le idee chiare su cosa vuoi fare da grande? Per info, benessere giovani, chiocciolacomune.grottaminarda.av.it oppure chiama il 320-2582-525. I carabinieri della stazione di Avellino hanno tratto in arresto un 18enne di Montoro, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È accaduto nella tarda serata di ieri nel capoluogo Irpino. Fondamentale è stata la chiamata al 112, che ha segnalato uno spazio di droga tra giovanissimi in atto in pieno centro. Ricevuta la notizia, i militari in servizio presso la centrale operativa hanno disposto in tempo reale l'invio di un'autovettura civetta, con a bordo personale in borghese. All'esito dell'immediata perquisizione, il 18enne, sorpreso a cedere la droga, è stato trovato con circa 20 grammi di hashish, già suddiviso in dosi. La stessa sostanza stupefacente, appena acquistata, è stata rinvenuta in possesso di un 20enne di Serino e di un 17enne di Altavilla Irpina. Quest'ultimo già pronto a confezionare uno spinello. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire a casa del giovane pusher un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro unitamente al denaro provento dall'illecita attività di spaccio. Il giovane montorese è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari.